Salve a tutti, sono Sara Giarchi, dottoressa in Economia e Commerto e studentessa correntemente presso il Master of Science in Economics fornito dall'Università di Pisa congiuntamente con la Scuola Superiore Sant'Anna. Insieme al dottor Corri e a dottoressa Grimaccia ci proponiamo di studiare gli andamenti del mercato del lavoro nell'Unione Europea analizzando le caratteristiche dell'occupazione negli ultimi quattro anni per studiare che impatto ha avuto la pandemia. I dati che abbiamo utilizzato sono stati scaricati dal sito dell'Eurostat e per un periodo di 17 trimestri, effettivamente dal primo trimestre del 2017 fino al primo trimestre del 2021 e lo studio in generale comprende 33 variabili quali l'occupazione, studiata per tipologia di contratto, quindi part-time, temporanei, autonomi, livelli di istruzione e genere, disoccupazione e lavoro da casa. Cominciamo! La mappa mostra la variazione tra l'ultimo dato disponibile, ovvero il primo trimestre del 2021, e il primo trimestre del 2019 del tasso di occupazione nell'Unione Europea. Le variazioni positive sono evidenziate in tonalità di verde, mentre quelle negative in rosso e l'intensità del colore è associato con l'intensità del cambiamento. Come si può notare nell'Unione Europea, la maggior parte dei paesi presenta un peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro. Tuttavia, gli andamenti sono molto differenziati. In particolare, alcuni paesi registrano un guadagno in termini di occupazione, quale l'Ungheria, la Polonia, i Paesi Bassi, la Croazia e appena appena anche la Francia, oppure diminuzioni limitatissime come la Danimarca, la Slovacchia e l'Estonia. La crisi ha avuto un impatto negativo sull'occupazione sia degli uomini sia delle donne, come è possibile vedere dai cerchi arancioni e verdi che mostrano le variazioni del tasso di occupazione del 2021 rispetto a quello del primo trimestre del 2019. L'occupazione femminile e giovanile sono quelle che sono state particolarmente penalizzate nelle fasi più acute della pandemia e presentano valori ancora inferiori a quelli precedenti l'emergenza sanitaria. Nonostante, secondo la Banca d'Italia, ci sia stata una ripresa dei tassi nell'estate del 2021. Come possiamo notare, l'Italia, che si trova rispettivamente in terza e in seconda posizione, ha un'occupazione maschile e femminile tra le più basse d'Europa. Quella femminile presenta tassi particolarmente preoccupanti, di appena sopra il 50%, superiori soltanto alla Grecia. Nell'Unione Europea, sin dall'inizio della crisi che si presenta nel secondo trimestre del 2020, la tipologia degli occupati che ha subito maggiormente l'impatto della crisi è stata quella a tempo determinato, che evidenzia una caduta molto forte rispetto all'occupazione totale definita dalla linea rossa e una ripresa soltanto parziale negli ultimi trimestri, con un andamento analogo sia per gli uomini che per le donne. Le due linee infatti si sovrappongono quasi per tutto il periodo. Tuttavia c'è molta eterogeneità tra i paesi. Possiamo vedere che ce ne sono alcuni che presentano un andamento molto simile a quello della media europea, come la Francia, la Finlandia, la Spagna e anche la Germania, mentre altri che presentano un andamento completamente differente, come la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, Malta, la Romania, anche l'Irlanda e l'Estonia. Per l'occupazione part-time non c'è stata alcuna diminuzione, anzi alcuni paesi hanno fatto un ricorso massiccio alla riduzione delle ore lavorate, sia per gli uomini che per le donne, come per esempio in Ungheria, in Lettonia e anche nel Lussemburgo. Comunque possiamo vedere che l'aumento del part-time è presente per gli uomini anche in Austria e in Italia. L'occupazione indipendente non mostra di aver subito a livello europeo un impatto particolarmente negativo. Possiamo infatti vedere che le tre linee sono sopra lo zero. Tuttavia gli andamenti sono molto differenziati. nell'Europa centrale vediamo che sono in diminuzione, in Francia per le donne sono in aumento e la differenza tra uomini e donne è particolarmente apprezzabile in alcuni paesi come la Lettonia, la Lituania, la Croazia, il Lussemburgo, anche Malta. Mentre per altri paesi come la Spagna, la Polonia, l'Italia e l'Austria, gli andamenti tra uomini e donne risultano essere o sembrare più in linea. La pandemia, come possiamo vedere da questo grafico, ha finalmente aperto la strada al lavoro da casa con quote anche qui intuplicate in alcuni paesi quali la Bulgaria, la Romania, Cipro ma anche l'Italia. L'impatto negativo della crisi ha riguardato gli occupati di ogni livello di istruzione sia per gli uomini che per le donne ma con diversa gravità. Per gli occupati con un basso titolo di studio la diminuzione dell'occupazione è stata del 3%, mentre tra gli occupati con un titolo di studio universitario la diminuzione è stata solo dello 0,8%. Le differenze tra i livelli di istruzione sono comunque maggiori per le donne che per gli uomini. Infatti il tasso di occupazione femminile diminuisce del 4,3% tra le donne con un basso livello di istruzione, mentre diminuisce soltanto dello 0,5% e quindi diminuisce meno degli uomini per coloro che hanno un titolo universitario. Siamo così arrivati alla conclusione di questa presentazione e possiamo dire che l'Unione Europea ha mostrato rispetto alla crisi economica legata alla pandemia degli andamenti molto differenziati nel mercato del lavoro. L'occupazione ha in generale subito un forte rallentamento, ma con differenze notevoli tra i paesi, alcuni dei quali fortunatamente dopo due anni all'inizio della pandemia sono riusciti a tornare ai livelli di occupazioni precedenti. In ogni caso abbiamo visto che ci sono caratteristiche degli occupati che li rendono più o meno fragili rispetto alla crisi e tali caratteristiche sono trasversali. Abbiamo infatti appena visto che gli occupati con titolo di studio universitario sono riusciti a mantenere più della media la loro occupazione, mentre i giovani si sono dimostrati più fragili. Possiamo dire che inoltre le tipologie dell'occupazione hanno influito sulla tenuta, sempre con grande eterogeneità tra i paesi, che è il filo conduttore di quasi tutti i nostri grafici. Ovviamente le modalità lavorative che hanno permesso una continuazione dell'attività produttiva, come il part-time e lo smart working, hanno ovviamente aumentato di molto la loro incidenza. È così che si conclude questa presentazione, i riferimenti li trovate qui sotto. Grazie mille per la vostra attenzione.